è una passione che porto avanti sin da piccolino solo che varie scelte di vita mi hanno fatto prima allontanare da questa passione poi fortunatamente ho trovato questo corso e ho deciso di affrontare questa sfida ciò che secondo me manca in italia nei corsi universitari o altri corsi anche quelli professionali è veramente un approccio pratico un approccio che ti insegni veramente cosa vuol dire lavorare in quel campo da quando è cominciato sto corso non ho fatto che lavorare invece allora il mio bilancio personale è ottimo perché comunque in questi sei mesi ho imparato cose magari che sapevo già avevo già sentito parlare ma ho imparato a metterle in pratica ad esempio a gestire un'idea a mettere un'idea su carta in maniera che potesse essere compresa dagli altri essere magari accettata dagli altri il cosiddetto compito schermata fissa ho curato la grafica personalmente ho fatto gli sprite di ogni singolo elemento ho curato gli effetti sonori ho curato il gameplay ovviamente il desiderio è lavorare in questa industria in un modo o nell'altro